Disegnare nell'aria è un sogno di tutti i bambini che ora in realtà grazie a una penna elettronica. Tridoodler, questo è il suo nome, è paragonabile a un aerografo ma quando si preme il tasto dalla punta non uscirà vernice ma un composto plastico come quello delle stampanti a 3D che permette di disegnare e modellare in tempo reale qualsiasi cosa passi per la testa. L'idea originale è nata alcuni anni fa in parallelo alle stampanti 3D ma non ha ottenuto la fortuna sperata per via delle poca precisione e dei costi. Oggi questa penna magica è rinata grazie alla raccolta fondi su Kickstarter ed è completamente rinnovata, più piccola, precisa e facile da usare verrà presentata nel corso dell'International Consumer Electronics Show di Las Vegas e vedrà la luce promettono gli sviluppatori ad aprile prossimo.